Dopo l'esperienza di Rosso Vittorio, il corso rinominato dei pescarisi per via del colore acceso, l'amministrazione Masci avvia un nuovo cantiere parlante, potremmo definirle così il via ai lavori su Corso Umberto I, piazza Sacro Cuore, con la consegna alla ditta incaricata venuta ieri, e accompagnata da un annuncio. Una comunicazione spinta, soprattutto per poter mettere i cittadini in condizione di essere aggiornati costantemente, sia sull'attività progettuale ma anche sull'attività realizzativa. È un cantiere molto delicato, che durerà otto mesi, con un coinvolgimento costante dei rappresentanti delle associazioni di categoria, i quali poi diventano anche dei mediatori formidabili anche con la cittadinanza. Tant'è vero che a metà ottobre incontreremo di nuovo i rappresentanti delle associazioni, proprio per renderli edotti sul cronoprogramma, sulle attività di cantiere e sull'evoluzione in genere dei lavori. Insomma, ci saranno pannelli luminosi, ma sarà possibile anche scannerizzare un QR code per avere info. Intanto, anche nella prima fase dei lavori, sarà lasciato un corridoio carrabile per i residenti, previsti spazi liberi ai lati della carreggiata, così come l'accesso all'albergo Plazza di Piazza Sacro Cuore. Oggi altro sopralluogo tecnico per pianificare anche l'organizzazione dell'illuminazione, dal momento che inizieranno i lavori su Piazza Sacro Cuore, con un occhio di riguardo alla viabilità, almeno quella che riguarda la zona traffico limitata e per quanto riguarda anche le attività produttive che sono in quella zona. Dopodiché si procederà alla recinzione del cantiere e anche alla posizione delle misure di divulgazione e di pubblicità assolutamente innovative rispetto ad altri cantieri passati. La riqualificazione di Corso Umberto e di Piazza Sacro Cuore costerà in tutto 1.540.000 euro finanziati con i fondi del PNRR. Altri 533.000 euro serviranno per la sostituzione dei lecci malati con nuovi alberi e piante nell'ambito del progetto di adattamento ai cambiamenti climatici.